Elena ha capito che le cose non vanno, eh? E quelli del partito l'hanno vista in crisi e mi hanno chiamato, mi hanno chiesto di starle vicino perché temono che il suo nervosismo possa compromettere la tenuta della giunta e ci hanno paura che molli tutto. Ma mi ascolti? Sì, sì. E che pensavi che fosse come chiudere la partita IVA? Ci stanno di mezzo le persone, Umberto. Tanto quando una cosa è finita, è finita. È come mettere un cerotto a neorragia. Infatti io...